Ormai i giochi erano già fatti, perché normalmente le consultazioni vanno fatte per esplorare, per capire se ci sono le condizioni per fare un governo con le varie forze politiche, ma in questo caso il governo già era stabilito, quindi era tra virgolette una presa in giro. Io credo che probabilmente troppi anni nei palazzi fanno sì che la forma costituzionale venga in un certo qual senso anacquata, per cui quello che abbiamo chiesto è semplicemente fare in modo che chi stava andando via, quindi in questo caso il presidente Letta, venisse alla Camera e al Senato a spiegare le ragioni delle sue dimissioni.